Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. CPD per lavori e possibili disagi tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. In conseguenza dell'emergenza sanitaria coronavirus ricordiamo di limitare ogni tipo di spostamento. Segneremo inoltre che l'offerta commerciale di Tranitalia e di Ataf a Firenze, così come delle altre aziende di trasporto pubblico in Toscana sono rimodulate. Fortemente ridotte inoltre le attività degli aeroporti toscani e i collegamenti marittimi. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico ferroviario segnaliamo che diverse biglietterie della Toscana sono chiuse fino a nuovo avviso. Si tratta delle biglietterie di Aula Lunigiana, Carrara Avenza, Cecina, Follonica, Montecatini Terme, Pontassieve, Pontremoli e Signa. Fino a domani, 22 marzo, sono inoltre chiuse le biglietterie di Figline e Montevarchi. Moversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!